Inaugurata questa mattina la nuova sede della tenenza della Guardia di Finanza Roseto degli Abruzzi, intitolata d'Umberto Adamoli. Tenente colonnello, medaglia d'argento al valore militare e servitore della parria nella Prima Guerra Mondiale e anche protagonista di atti d'eroismo dopo il secondo conflitto durante l'occupazione tedesca. Presente, oltre alle massime autorità civili, militari e religiose della regione e della provincia, il comandante interregionale dell'Italia Centrale Generale di Corpo d'Armata, Andrea De Gennaro. Diciamo che questo è anche un segno di rinascita e di rilancio di tutta l'attività anche dell'attività delle forze di polizia ma ci auguriamo di tutta l'attività di tutti gli imprenditori, di tutti i cittadini, tornare al vivere normale. Intanto la dislocazione di una delle migliori competenze per quanto riguarda il servizio allo Stato, il servizio alla Repubblica perché la Guardia di Finanza vuol dire dedizione, approfondimento, conoscenza, polizia economico-finanziaria e vuol dire anche il rispetto e il principio di concorrenza nei confronti di coloro i quali magari dentro al mercato provano a fare i furbi. Io sono venuto in ragione della competenza che ho all'interno della Commissione Finanze e Tesoro del Senato di cui sono Presidente e voglio testimoniare il riconoscimento dell'ordinamento nei confronti di questa specialissima attività di giovani, esperti, di persone che sono in cammino al servizio della Repubblica. Roseto città sicura, Roseto città accogliente, un presidio importante in una zona della città in via di espansione. Ovviamente ci hanno lavorato diverse amministrazioni, mi onoro e ci siamo impegnati da subito a che questo non fosse più un sogno ma una realtà. insomma oggi è un grande orgoglio per il sindaco di Roseto inaugurare questa sede importantissima. Non siamo nel centro della città, non siamo nella piazza, non siamo nella strada principale, siamo in periferia, nella periferia sud. È proprio qui che c'è bisogno di un presidio, di una presenza, di una forza di polizia che dia maggiore sicurezza alla popolazione che sia punto di riferimento proprio per questa zona. Presidio quello di via Fonte dell'Olmo che è una doppia valenza perché torna nelle mani dello Stato a guardia della legalità e soprattutto dopo essere stato strappato ad una famiglia dedita all'usura. È anche un valore simbolico perché si tratta di un immobile che a suo tempo fu strappato alla criminalità, è stato confiscato e adesso viene restituito al servizio della cittadinanza. Questa è stata una misura di prevenzione che è stata fatta dai carabinieri nel lontano 1990 ad una famiglia che viveva di reati vari ma soprattutto usura, per cui poi si è arrivato col tempo alla confisca e al passaggio del bene direttamente di proprietà dello Stato.